Andiamo a vedere oggi una partita giocata con il nuovo caccia torpediniere giapponese Minegumo Vi ricordo che la nave è disponibile all'interno dell'armeria e si può trovare nei container I container con il costo in Doblonia avranno una possibilità maggiore di rilasciare una delle quattro navi Mentre i container che si possono acquistare con i gettoni avranno una possibilità ridotta allo 0,6% Il caccia torpediniere si presenta in questo modo Partiamo subito dall'inizio Una resistenza di 18.250 punti Cannoni da 127, i famosi 127 giapponesi che fanno malissimo Una ricarica un po' alta però si può gestire Siluri, la possibilità di lanciare dei siluri o a corto raggio fino a 6.5 km Con un danno di oltre 21.000 danni con una buona velocità Oppure dei siluri a lungo raggio che arriveranno fino a 15 km Eccoli qua, è la prima scelta Cariche di profondità per attaccare i sommergibili Ne abbiamo 8 in una carica E poi difesa contraria praticamente inesistente Portata a 2.5 con un danno di 10 Però abbiamo la probabilità di colpire pari al 95% Fantastico Manovrabilità, un valore di 36.8 nodi Nave un pochino lenta, mimetizzazione Veniamo spottati a 5.4 km E' tutto vero, non c'è trucco, non c'è inganno Mettere tutti i potenziamenti che il gioco vi suggerisce Tranne nella seconda slot, io personalmente vado a mettere sovralimentazione modificata a 1 Il cacciador pediniere risulta essere un pochino lento Quindi se la sovralimentazione viene a mancare Pur dell'8% farete fatica a riposizionarvi Capitano speciale abbastanza obbligatorio Potremo attivare il talento riserva d'emergenza Con un primo sangue, non è impossibile E poi seconda possibilità con un kraken Mettiamo manutenzione preventiva Tutto per quanto riguarda i siluri In realtà la velocità dei siluri Ve la consiglio Io non ho riaddestrato il capitano Perché non mi sembrava il caso di riaddestrare Solo per quella skill Bersaglio proletario va più che bene in alternativa Scarica di adrenalina E ancora esperto di sopravvivenza Per garantire più punti vita alla nostra nave Vado a eliminare il sovrintendente Perché preferisco per l'appunto avere più punti vita E poi ovviamente esperto di occultamento Avremo tutti i bonus No, in realtà mettiamo i blu e i rossi E in più abbiamo un aspetto con la mimetica Che ho comprato in maniera permanente Non ricordo come si chiama Cartografia Cartografia che ritengo che sia una delle più belle All'interno del gioco E quindi l'ho pagata, se ricordo bene Sì, 9 milioni di crediti E rimane sempre a nostra disposizione Inoltre abbiamo Al netto di tutto comunque La mimetica predefinita Sarebbe questa qui Che personalmente Insomma, lascio giuricare voi È più bella cartografia Ragazzi, mi raccomando Vi chiedo come sempre Un mi piace per supportare il canale del Buon Devi Se volete supportarmi ulteriormente Potete abbonarvi a partire da 0,99 centesimi Il livello di abbonamento è direttamente sponsorizzato dalla Wargaming Nella sezione di abbonamenti Vi faccio vedere come collegare l'account Wargaming a YouTube Per ottenere un piccolo vantaggio Direi che ci siamo Andiamo a vedere una partita con il Minegumo Via! Andiamo a giocare una partita con il nostro cacciatore peniere Siamo in una mappa Rifugio, modalità, supremazia 5 barazzare, 3 incrociatori 3 cacciatore penieri Un sommergibile Allora Andiamo a spottare larghi a sinistra D'accordo? Il cap ce lo prendiamo in un secondo momento Prima spottiamo Torpiamo Distruggiamo E si spera E poi eventualmente ci prendiamo il cap D'accordo? Perché mettermi dentro il cap Sì, prendo il cap E poi il nemico si posiziona Questi vengono torpà Un casino Quindi andiamo sulla sinistra Massima velocità 45.2 .5 42.5 nodi La velocità massima che potete raggiungere con il boost Con la skill e con la bandierina Di più la nave non va D'accordo? Relativamente un po' lenta Se paragonate ad altre navi Però va bene lo stesso Ok, vediamo se riusciamo a registrare questo gameplay Perché I presupposti tecnicamente ci sono Il matchmaking è abbastanza tranquillo Hanno I nemici Un paio di radar Tra cui Il Ragnar E Il Seattle D'accordo? Qua vedo già una bella curfust Vediamo cosa succede La divisione in acqua sembra vagamente equa 3 3 6 6 Sì, vabbè Ci siamo da quel punto di vista Allora Sinceramente qua O lanciamo i siluri In maniera preventiva In quella Da quella parte Oppure Dovevo virare Troppo tardi Ha messo anche lui il fumo No Via, via, via Subito Virata secca a sinistra Aspetta No Ecco là Tanto ha tolpato sicuro lui Ti devo dire No Ma secondo te Mi muovo È normale che mi muovo Dobbiamo capire Oh Ok, ok Allora 1 E 2 Prova a tenere il bene Amo spottato Ho chiuso i luri Lui Yang Non capisco il fumo Per chi? Per il San Martino? Bah Me lo sarei conservato Torna alla carica Lui Addirittura Buona Bene ma Io ti faccio male A cannoni Posso assicurare Che ti faccio molto male Se ti metti così Ti smonto proprio Ok Adesso tu hai il vantaggio Del fumo Un siluro Qualcuno Voleva anche sparare Al cacciatore peniere In tutto questo Dettagli Veramente Dettagli Va bene Not a problem Via Perché se no La rilevabilità Mi aumenta Appena va giù La curfus Mi vado a prendere Il cacciatore peniere Me la rischio Questa virale Secca a sinistra Preparo I cannoni A destra Dovrebbe andare giù A brevissimo Bene ma Una nave Molto fastidiosa Ma veramente Molto fastidiosa Lancia dei siluri Con Con una ricarica Pazzesca Lì c'è il Ragnar Ovviamente Se ci fosse stato Il Ragnar Ci avrei pensato Dieci volte Prima di Di fare una cosa Del genere Però Al momento La situa Sembra tranquilla Stanno cappando Bravo E il cacciatore peniere Francese Va benissimo Vediamo Lui Tecnicamente Dovrei vederlo A breve Sempre se non è scappato Da quella parte Vediamo Eccati Quei siluri Mi hai fatto Prendere Quasi paura Quasi paura Eh C'è il radar Usiamolo Grazie Diciamo che Anziché Tenerlo Ah Avevamo il mosca Proprio Wow Avrei voluto Farla io Sul cacciatore peniere Vabbè dai Non fa niente Andiamo Pushiamo Wow Il mosca Si è fatto One shot Ma com'è possibile Sta cosa Ancora colpi in arrivo Ragazzi Facciamo attenzione Perché la partita È tutt'altro Che finita Vabbè In realtà Questi lui Forse un po' Troppo Pretenziosi Alla fin fine Lui No Si è riuscito A girare Vagamente Il nostro Sommergibile È morto Perché è da solo È veramente Da solo Continuiamo a pushare Il Ragnar Ha Il radar A sette e mezzo Eh Fra Tecnicamente Dovrei prenderti Tecnicamente Proprio Uno Not bad Ovviamente Il Ragnar Mi può smantellare Dobbiamo fare Molta attenzione Io ho lanciato Dei siluri Sul gun in lui Che è fermo Però Ho un po' Di paura Che vada avanti Ho lanciato I siluri Forse troppo Nella Sta avvinando Tutti in una zona No Che sta facendo Fra non fare Quella cosa Che ti smonta L'hai amato Ti smonta Se non ti prendo Io con i siluri Ti one shot Alla corazzata Perché ha fatto Sta manovra Non lo so Poteva andare In retro No Continuiamo a pushare Ragnar Wow Il Ragnar È morto Spariamo Scendio E poi viene Massacrato Dalla Dalla Datara Andiamo in cap Danni pochini C'è stato Uno scontro Vagamente interessante Contro il Benam Avversario Che si poteva concludere Dopo Trenta secondi Perché avevamo Il Mosk Avevamo Il San Martino Avevamo Praticamente Tutti Tutti i radar Da questa parte Però vabbè È andata Come è andata E siamo felici Lo stesso Quattro siluri Poca roba Ti devo dire Continuiamo ad avanzare Verso il cap loro Non so se c'è tempo Di fare altri danni Dall'altra parte In realtà Il nostro sommergibile È riuscito anche A venirne fuori Ma era completamente Circondato Come ha fatto È stato bravo lui O sono stati Meno bravi I nemici Perché a un certo punto Ho visto tutte le cariche Chiamate Vabbè Il famoso 20% In più di virata Sott'acqua Vero Ma quello è FK Ecco In una situazione Del genere Che si fa Si attacca Non si attacca Dobbiamo considerarlo A tutti gli effetti Un giocatore Danno gratuito Ecco perché dico Ragazzi I problemi del gioco Sono altri Sono i giocatori FK Vedi che Allora il gioco deve Secondo me Riconoscere Che la persona Non si è connessa Dopo Un minuto Dall'inizio della partita Dopo due minuti Vogliamo essere buoni Dopo tre minuti Devi cambiare il giocatore Per forza Vedi un po' La media Dei punti Che hanno magari Gli alleati E i nemici E fai entrare Quella nave Con i rispettivi Punti vita Anche magari Dal punto di vista Dei consumabili Cioè puoi fare Questa media D'accordo Però se Cioè una nave In meno Dove vanno Come ho capito Quello è il problema Poi magari Io faccio il devastante E cioè Capito Mi devo sentire in colpa Di aver distrutto Una nave AFK Non si può Vabbè Ma in realtà Non arriveranno Neanche i siluri Perché verrà distrutta Prima la nave Figurati Sotto i colpi Delle corazzate Bah Ma va Che vedevo di Tutti che sparano Alla nave AFK Nessuno che spara All'Odin Vorrei far notare Questa cosa Esploratore Wow Ah stavo dicendo Come cavolo Che mi sta sparando Se non mi vede In realtà Stava sparando Il cacciator Perini No sarebbe stato Un genio A fare una cosa Del genere Fortuna Proprio Al cento per cento E in realtà Non è stato così Il cacciator Perini Il sommergibile Loro Tutto sommato Insieme allo Smones Che hanno provato A tenere la posizione Ma Devo dire la verità Hanno poche navi Per poter Solo Pensare Di resistere I cannoni Comunque Fanno davvero Molto male Sono dei 127 Che fanno Malissimo Balao Meravigliao Mi ha fatto 93 L'Odin Spara Allo Smones Con la dispersione Col calibro Che hai Diciamo Che Non Mancano Eh Sei morto Fra Volevo darti Un fumo Lo sai Ci avevo pensato Ma Direi che è inutile Direi che è totalmente Inutile Qua potremmo andare A prendere il cap Sinceramente Louis Young Si fa le Fantasque Guarda Con una partita Del genere Al netto di tutto C'erano navi Di livello 10 Di livello 8 Noi eravamo nel mezzo Non abbiamo preso Nessun cap Pulito Solo un'assistenza Vi ricordo Che il cap Completo Vi dà più punti Rispetto a un'assistenza Perché appunto L'avrete preso In maniera completa D'accordo Sommergibile Non mette la bandierina Della 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 Rammata Sempre mettetela Dovete metterla sempre Ha giocato molto bene Il sommergibile Nemico Comunque Al netto di tutto Ha giocato molto bene Silurica Personalmente Ma beh no Troppo lontano È impossibile Beccarlo È veramente impossibile Qua ci prendiamo Un'altra assistenza Lo sai che con una partita Del genere Potremmo essere arrivati Forse anche primi Una partita Che tutto sommato È anche elementare Cioè Meno di 100.000 D'anni Figurati Il Benham A un certo punto Mi ha fatto prendere Vagamente paura Perché ha lanciato Dei siluri Da distanza ravvicinata Lì poteva anche Concludersi La mia partita Però diciamo Che alla fin fine La manovrabilità Mi ha dato Quella La giusta spinta Per evitare I siluri stessi Quindi Diciamo che va bene E le fantasca Sta ancora sparando Si fa What? Ma aveva 400 punti di vita Com'è possibile Che lo Yoyang Non sia riuscito A prenderlo? Non lo so Sinceramente È tutto fantastico Sempre Ah lui ha messo Il fumo là Non so neanche Se attivano I siluri Sì Dei lancio Rimani nel fumo Per favore Che te l'ho lanciato Miseria Sommergibile da queste parti Sta inseguendo La cascogno L'hanno capito tutti Una partita infinita Va benissimo Dunque Non ho neanche il boost E la nave Può soffrire Da questo punto di vista Nelle accelerazioni Nelle posizionamento Dettata da una velocità Ripeto Non proprio Entusiasmante Ok Sta davanti a me Ho visto vagamente I siluri Da dove sono partiti E quindi posso dedurre Che Il sommergibile Si trovi in quella zona I siluri L'ho lanciato Le fantasche Immortale A 400 punti Da un'ora Non vuole morire Incredibile Fra Prova a chiamare Non so proprio là Prova a chiamare le cariche Cioè Anche se non si vede Però sta lì Capito cosa ti voglio dire Sta lì Davanti a noi Sta Più veloce di così Non posso andare Per darti una mano Chiamiamo un po' di cariche Ah sta proprio qua Vediamo se ce lo facciamo Incredibile Bravo Ma lui sta qua Lui sta qua Lui sta qua Eh mo Eh Buongiorno Wow Unlucky Eh ma infatti Incredibile Il le fantasca Ancora vivo Cioè Veramente Unlucky Il balao Non muore Il le fantasca Non vuole morire Ma non è possibile Sta cosa Sta da 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 più di 5 minuti Con Sommergibile È fantastico Comunque No è morto Anche la zooma Incredibile Partitone delle fantasca Cioè Attenzione Quanto abbiamo fatto 1970 No no Qua abbiamo fatto Il 2000 Qua abbiamo fatto Un 2000 Bello pieno Anche Ti dirò Non abbiamo fatto Tantissimo A livello di partita Però ci portiamo A casa Un esploratore Da combattimento 2000 2062 Signori Avevo percepito Il 2062 Bravo Lodin Oh Ha fatto 2072 Bravo Complimenti Il loro Le fantasca Ha giocato Molto bene Bravo In realtà Dalla parte Loro Hanno giocato In tre Balao Molto bravo Smolensk Al netto Della nave Sei stato Bravo Kansas Al netto Di tutto Sei stato AFK E Moskva Sicuramente Potevi anche Fare un radar Iniziale Avrei perso Meno vita Contro Il Benham Quindi Tutto sommato Una partita Che Si chiude Abbiamo fatto Il minimo Sindacale Sul Balao 45 E poi Qualche siluro Di qua E di là Crediti Levate le varie spese Una cifra Abbastanza importante Un milione e mezzo Puliti puliti Avete praticamente Tutto quello Di cui avete bisogno Una bassa rilevabilità E i siluri Poi di contorno Se potete Come nel gameplay Che vi ho mostrato Potreste pensare Di sparare Con i cannoni Però Dovete conoscere Il nemico E valutare Un pochino Il rischio Per quanto riguarda La velocità massima Comunque È un fattore Da non sottovalutare Perché Con la configurazione Che avete visto Spesso e volentieri Finirete consumabili Troppo presto Rispetto magari Alle esigenze Di partita D'accordo Quindi Dovete veramente Valutare Se mettere Un sovrintendente Però ripeto Sovrintendente Cosa vai a sacrificare Levi già Una velocità bassa Levi dei punti vita Che non sono tantissimi Quindi Secondo me Questa comunque Rimane la configurazione Migliore Attuale Magari Bisogna fare Una gestione Dei consumabili Più ottimale Per quanto poi riguarda Vabbè L'antiaerea Praticamente Non c'è poco da dire Praticamente nulla E poi Comunque sia La manovrabilità Complessiva Rimane davvero Molto ottima Come avete visto Ci ha concesso Di evitare I siluri Con pochi problemi Ragazzi Video terminato Io come sempre Vi ringrazio Per i commenti E le visualizzazioni Noi come sempre Ci vediamo Con un prossimo Gameplay Ciao 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 Grazie a tutti